Musica Ci avviciniamo ogni giorno di più alla venuta del Signore e del Salvatore in questa terza domenica di avvento, detta anche domenica della gioia e della speranza ritroviamo la nostra gioia Padre Ernesto della Corte in conversazioni bibliche Ben trovato Padre Ernesto, buona terza domenica di avvento Grazie, buona Pasqua della settimana in questa terza domenica dove il protagonista ancora una volta è il nostro Giovanni dal momento che abbiamo saltato il testo di Matteo 3 di domenica scorsa perché quest'anno abbiamo celebrato l'Immacolata di domenica quindi abbiamo saltato quella bellissima pagina in cui il nostro Giovanni è il precursore ma il Giovanni è un po' come dire rappresenta ogni discepolo che deve indicare il Cristo perché Matteo è molto forte su questo anche nella pagina finale del capitolo 28 lui ricorda alla Chiesa che è lui che ci ha addiscepolati per dire un neologismo molto brutto ma per far capire è lui che ci fa discepoli e la Chiesa non può addiscepolare ma deve portare a Cristo che fa questa operazione perché lui è l'unico maestro ecco perché l'avvento siamo sempre, ricordiamolo, alle nostre amiche e ai nostri amici siamo in cammino in attesa che il risorto stia per tornare quindi lui è andato a prepararci un posto come dice in Giovanni e quando ogni cosa sarà portata a compimento lui verrà a riprenderci è chiaro che noi ci prepariamo pure al memoriale pasquale del Natale perché dobbiamo far capire alle nostre persone che chi nasce a Natale è il risorto e oggi abbiamo il profeta Isaia al capitolo 35 che ci ricorda un po' come il popolo di Israele in esilio sfiduciato, oppresso e Dio interviene Dio sta preparando una strada meravigliosa e quella terra arida viene resa davvero fertile dalla pioggia la steppa che è terra dura da coltivare fiorisce e produce addirittura Isaia dice che il narciso che è un fiore delicatissimo, stupendo germoglio nel deserto è tutto un incanto è come se oggi la liturgia volesse farci capire che tutto ritorna a rivivere anche i maestosi cetri del Libano quella lussureggiante foresta del Carmelo l'altopiano dello Sharon e Israele vede la gloria del Signore e quindi il testo di Isaia ci ricorda oggi di irrobustire le mani fiacche così che le ginocchia poi non possano vacillare il Signore ci chiede di combattere la paura, il timore e gli sta per venire apre gli occhi ai cieli, ai ciechi stura le orecchie ai sordi fa salterragli gli zoppi addirittura come fossero dei cervi agilissimi si scioglie la lingua dei muti e appare questa via che è detta santa chiaro che per noi quella via è il Cristo nostra via, verità, vita come vivere dunque l'avvento per la seconda venuta? anche San Giacomo nella seconda lettura al capitolo 5, bellissimo ci esorta ad avere la pazienza attiva degli agricoltori i quali sanno che sotto terra il seme muore e se muore e si spacca viene fuori la nuova pianta ancora una volta direi ecco la giornata così bella di gioia questa domenica è l'immagine di una comunità che vive la serenità l'Apostolo ci esorta pure ad avere la pazienza dei profeti i quali hanno sopportato tutto sapendo che Dio tutto prepara e porta a compimento e nel frattempo dobbiamo evitare di gemere di sospirare, di lamentarci noi dobbiamo attraversarla la vita ecco che cosa vuole dirci il testo per cui anche il Battista che oggi registriamo nella terribile fortezza del Maccheronte ormai è stato imprigionato da Erode antico fra poco subirà la morte, la decapitazione dove ci troviamo per il Vangelo del capitolo 11 di Matteo? sulla sponda orientale del Mar Morto era la fortezza preferita da Erode che ogni tanto lì si riparava per evitare anche i nemici Giovanni, come dicevamo in queste settimane ogni personaggio biblico non ha mai la certezza su Gesù nessuno di noi può pensare di conoscerlo è Gesù che deve rivelarsi ecco perché non avendo la certezza se Gesù sia davvero il Cristo cioè il Messia invia i discepoli a interrogarlo l'episodio è davvero degno di nota perché anche lui deve fare un cammino di conversione anche lui deve fare un cammino di discernimento insomma, amiche e amici carissimi oggi il Vangelo vuole dirci che nessuno di noi, come diceva Papa Benedetto XVI può farsi un'idea, come dire, chiusa del Signore noi dobbiamo registrare davvero da parte nostra un cammino ognuno di noi deve cambiare la propria idea pensate, Giovanni aveva predicato un Messia violento decisionista, con la scura sulla radice è un testo davvero notevole c'è un Dio che manda un Messia che vuole scardinare il male dalle fondamenta e invece Giovanni nota che lo stile di Gesù è all'opposto incontra i poveri malati, le donne dialoghi, interpella, accoglie, rimette in cammino Gesù non usa la scura, come pensava Giovanni ma la misericordia infinita del Padre ecco dove nasce il dubbio di Giovanni aggravato dalla situazione di prigionia in cui si trova una fortezza inaccessibile, armata sono cambiate le cose? da quando il Battista ha predicato sul Giordano? niente affatto il prepotente è sempre più crudele, anzi erode antipa si diverte tra feste e balle e balli mentre la povera gente muore di fame ecco perché Giovanni invia i discepoli la domanda che egli fa porre è indice della sua crisi sentiamola nel capitolo 11, versetto 3 di Matteo sei tu colui che sta venendo o dobbiamo aspettarne un altro? una domanda davvero interessante che fa capire come evidentemente lui aspettava un Messia diverso un Messia forte, quasi compattente invece Gesù davanti a questa domanda che gli pongono i discepoli di Giovanni notiamo non risponde direttamente andate e dite a Giovanni e qui Matteo mette insieme dei testi di Isaia molto belli e quindi dice così dite a Giovanni i cerchi recuperano la vista il capitolo 11, versetto 5 di Matteo gli zoppi camminano, i sordi odono e in queste citazioni c'è Isaia 61 addirittura Gesù aggiunge una frase di Isaia i morti resuscitano evidentemente qual è lo sfondo ci sono i racconti dei profeti Elia e dell'Iseo i testi di Kumran insomma il Messia che viene addirittura farà rivivere i morti tutto rientra nella descrizione delle opere meravigliose che opererà il Messia e la citazione di Gesù termina al versetto 6 che vuole addirittura con una beatitudine Makarios beato è colui che non cade per causa mia che cosa vuole dire qui il testo? questa citazione che cosa provoca in noi? vuole mostrare lo scandalo di dover accettare un Messia come Gesù non come pensava Giovanni con queste parole Gesù vuole quasi delineare una missione messianico, profetica che non è di tipo politico non è di tipo sociale ma è una liberazione spirituale ecco la missione di Gesù lui è il liberatore del nostro spirito e il contorno di questo veniente è tratteggiato proprio esattamente da queste caratteristiche quindi la risposta di Gesù che è il Messia chiede anche al Battista e a noi oggi di lasciarci interpellare dal suo stile lui è vicino ai poveri ai librosi alle donne alla povera gente agli esiliati non ha pregiudizi anzi fa aprire gli altri al nuovo è un Dio che spalanca il nuovo davanti agli occhi di questa povera gente non si dichiara esplicitamente anche questo è interessante Gesù non dice esplicitamente di essere il Messia per lasciare libertà di capire di aderire per non coartare la nostra scelta ecco le azioni di Gesù le sue parole devono interpellarci convincerci senza violenza lui è il volto del padre lui è la misericordia del padre ecco perché ha indicato le opere perché che cosa sono le opere? i ciechi che vedono gli zoppi che camminano i soldi che odono sono un segno di Dio che interviene nella storia Dio vuole cambiare il cuore degli uomini ma come faremmo noi? noi non siamo capaci nemmeno di spostare una virgola nel nostro spirito questa è l'opera più difficile solo l'opera del Messia può spostare il cuore degli uomini può cambiarlo può trasformarlo può ricrearlo ecco perché i miracoli che portano la guarigione non importa la guarigione fisica ma soprattutto quella fede accendono la fede aprono gli occhi sui segni di Dio ecco perché le opere dichiarate da Gesù tutto sommato indicano un cambiamento e questo cambiamento vuole indicare una vera umanizzazione delle persone ecco il cammino che deve fare Giovanni ecco il cammino che devono fare le folle i discepoli e noi oggi per cui dobbiamo lasciarci trasformare da questa parola che oggi ci viene annunciata certo Giovanni tra i nati di donna dice Gesù nessuno è più grande di lui è l'ultimo dei profeti è colui che ha incontrato il Messia ma nel regno dei Cieli dice Gesù la grandezza del più piccolo sarà più grande del Battista perché? perché ormai Cristo vive accanto a noi e dentro di noi un'ultima cosa da dire non pensate che la domanda di Giovanni Battista sia un dubbio questo dubbio non è mancanza di fede ma è desiderio di comprensione e qui amiche e amici cari dobbiamo capire che quando ci sono dei dubbi non sono mancanza di fede ma devono esprimere il desiderio di capire di capire a fondo di andare a fondo deve esserci dentro di noi la volontà di farsi delle domande e di cercare delle risposte dentro di sé con l'aiuto dello Spirito questo porta a maturare la nostra fede ed è proprio il profeta Esaia che ci presenta un mondo felice e gioioso perché in questo mondo verrà il Messia a salvarci e dobbiamo essere convinti di questa realtà certo e lo possiamo essere convinti nella misura in cui facciamo un cammino per cui anche la domanda del Battista oggi deve darci veramente sicurezza dobbiamo chiedere puoi aspettare la risposta perché davvero la Bibbia le sante scritture che contengono la parola di Dio sono davvero la biblioteca meravigliosa che ci pure dei dubbi e Gesù corregge anche gli antichi testi Gesù viene a completarli a correggerli soprattutto a farci capire qual è la via giusta cercare risposte corrette ma per farlo dobbiamo farci delle vere domande e allora chi è il Cristo per noi? ascoltiamo la sua risposta oggi è colui che fa trasformazione rende i ciechi i vedenti gli zoppi che camminano i sordi che odono è un Dio che trasforma chiediamoglielo oggi Signore Signore Gesù trasforma il nostro cuore e fa che davvero ognuno di noi possa venirti incontro e cambiare il proprio cuore come l'ha fatto anche Giovanni questo suono del tuo telefono ci conferma che quello che stai dicendo è la pura verità e noi ci lasciamo anche con questa domanda siamo capaci di trasmettere la vera gioia agli altri visto che oggi è la domenica dedicata alla gioia e oggi c'è quel versetto del Salmo 145 che vorrei sottolineare beato colui che ha per suo aiuto il Dio di Giacobbe colui che ripone la speranza del Signore e del suo Dio questa è la grandezza per ognuno di noi grazie Padre Ernesto come sempre ci troviamo ritroviamo la prossima settimana grazie a voi e buona settimana di avvento e buona Pasqua della settimana Shalom Ate Shalom Ate